Anche durante le fine settimana appena trascorso, come disposto in sede provinciale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Massimo Mariani, sono state intensificate le attività di controllo per il rispetto della normativa anti-Covid nella città di Reggio Calabria e nell'intera provincia. Reggio in particolare, nella zona del lungomare interessata alla movida, rimane alta l'attenzione delle forze dell'ordine nei confronti dei comportamenti irresponsabili e inosservanti delle prescrizioni governative poste a tutela della salute pubblica per il contenimento del contagio da Covid-19. Nella notte, tra sabato e domenica, nell'ambito dei servizi di prevenzione di ordine pubblico disposti dal questore Maurizio Vallone, su indicazione del Comitato OSP per l'intera zona del lungomare di Reggio, sono stati organizzati, con l'utilizzo di reparti inquadrati delle forze dell'ordine e di autopattuglie dedicate, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, che hanno irrogato la sanzione prevista per la violazione della normativa Covid a Lido con la Junco. Nel corso dei controlli, rigorosamente attuati nei confronti dei locali maggiormente frequentati dalla movida regina, è stato infatti verificato che presso il locale sussistevano situazioni di pericoloso assembramento di persone durante le serate danzanti. È stata così disposta la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni. Altri otto esercizi commerciali invece sono stati controllati, si tratta di bar, pub, ristoranti del centro della città di Reggio e anche nel resto della provincia. presso i quali è stato verificato il pieno rispetto delle prescrizioni normative. Ovviamente rammentiamo l'importanza di attuare comportamenti responsabili nel privato ed in società da parte dei cittadini e degli esercenti delle attività produttive, proprio per garantire a tutti insieme la tutena del bene comune e la tutela della salute pubblica in un momento in cui l'emergenza sanitaria è ancora in atto.